Ciao, cosa voglio ordinare? Allora, no, guarda, ti voglio fare una domanda Quanto è stata la mancia più alta che ti hanno mai dato? Guarda, non lo so, una decina di euro Dieci euro? Io oggi adesso ti do una lavagnetta Scrivi un numero da uno a mille Che numero hai scelto? Centocinquanta Centocinquanta, come mai centocinquanta? C'è un motivo in particolare? No, a caso Così, a caso Di solito quanto ricevi di mancia? Guarda, non sempre me la danno Non sempre te la danno Allora, facciamo che io intanto ti do centocinquanta euro Centocinquanta euro sono per te Quindi pensa, se avessi scelto mille Ti avrei dato mille euro, però va bene Però adesso voglio mangiare Quindi centocinquanta euro su tuoi Però fammi mangiare almeno Prego Ah, finalmente Dieci, ho una fame Grazie mille Godo